19 febbraio 2016, muore Harper Lee. Nata a Monroeville in Alabama nel 1926, si appassiona già da adolescente alla letteratura inglese e alla scrittura. Alla fine degli anni 40 abbandona gli studi universitari per trasferirsi a New York, dove ha modo di riunirsi e collaborare con Truman Capote, suo amico d'infanzia, e di far la conoscenza di Michael Martin Brown, celebre compositore e paroliere, e sua moglie Jay. La coppia sarà fondamentale per la carriera di Harper. È grazie a loro che nel 1956 riceve il denaro necessario a mantenersi per un anno e potersi dedicare interamente alla scrittura.